Domani qui a Policiano si disputerà la 39esima Befana Campestre, una manifestazione che vede al via oltre 400 atleti provenienti da tutta la provincia della Toscana e anche parte dell'Italia. Sarà una manifestazione un pochino sottotono sotto l'aspetto della spettacolarità per quanto riguarda le condizioni e le situazioni anti-covid che saranno predisposte fin dall'inizio, però sarà l'occasione anche per rivedere un pochino la tecnica, soprattutto l'agonismo da parte di questi atleti che sono i migliori che ci sono in Toscana. Quindi sarà veramente una giornata di spettacolo dai bambini di 5 anni fino a quelli di oltre 70 anni.